È stato approvato in Commissione Cultura del Senato il disegno di legge a sostegno degli operatori dello spettacolo. Vediamo di che si tratta con Mariano Vellarussi. La pandemia ha colpito duramente il mondo del lavoro e soprattutto gli artisti e gli operatori dello spettacolo. Creativi e grandi talenti che ora finalmente si vedono tutelati con più attenzione, grazie all'approvazione di una nuova normativa che li sostiene. Il DDL a sostegno dei lavoratori dello spettacolo è stato approvato in Commissione Cultura e Lavoro del Senato. Nasce un registro che raggruppa tutte le varie attività legate al mondo dello spettacolo, ma soprattutto ci sarà una relazione molto stretta fra il Ministero del Turismo e il Ministero della Cultura perché vengano create nuove opportunità di lavoro per il mondo dello spettacolo. Un passo importante per gli oltre 160.000 lavoratori tra costumisti, elettricisti, attori, registi, categorie per le quali si riconosce finalmente la discontinuità, ossia quei periodi di pausa ma anche di prove e studio, finora spesso non riconosciuti e pagati. E proprio perché questo mondo è stato colpito mortalmente dalla pandemia, abbiamo immaginato degli ammortizzatori sociali e delle tutele per proteggerlo e salvaguardarlo. Grazie.